ciao ragazzi ciao a tutti e a tutti nuovo video skin care ovvero morning routine skin care se dovevo farla si dovevo farla già da prima di svegliarmi ma alla fine ho deciso di fare questo video stavo dicendo volevo farla nel svegliarmi questa morning routine ma alla fine la faccio già da sveglia innanzitutto mi ho già lavato le mani con questo sapone qui ho lavato le mani con questo sapone la faccia è importante se poi vado a truccarmi sono giunta al termine del video chiacchiericcio per questo era un morning routine chiacchiericcio ma non metterò il titolo così a cavolo nel senso che metterò un titolo così a cavolo sensato comunque sto utilizzando questo burro cacao della stappato il brochet alla mela vedete questa cosa vi state vedendo perché non ho lo specchio retrovisore e vi dicevo questo è il mio burro cacao della il brochet alla fragranza mela cioè al gusto mela ecco qua ecco qua e ora me lo metto sulle labbra che tra l'altro ha un mamma mia non so come si fa cosa vuol dire qua va bene ok ragazze dunque buono cacao messo non mi ricordo più cosa stavo dicendo sì stamattina è una bella giornata fortuna non è nuvolosa come ieri vabbè sono ancora in pigiama ma non ci fate caso vabbè casereccio è un video casereccio pigliatelo per com'è perchè tanto oggi mandava così e così ho fatto non è un blog ma è un video che cresce barra morning routine ho già fatto la mia bella colazione ho preso tutto quelle cosine buone che ho mangiato cioè non ho mangiato nulla di che ho preso un cappuccino la croassa l'ho evitata perchè tanto non avevo fame è la verità però mi ho preso il mio bel caffiuccio che non fa male a nessuno caffiuccio nessuno me lo deve privare perchè sennò non carburo come si vuol dire come carburano le macchine carburano anche le persone vabbè è una cosa scontata ma vabbè lo stesso e niente comunque ragazze mie ho dormito meravigliosamente bene e adesso ho segnato di merca vabbè non ditele a nessuno e sì finalmente ritorno a registrare con la mia bella canon perchè la mia canon non mi abbandona mai vabbè a parte quando devo registrare che registro video troppo lunghi ma con questa sono salva perchè mi rendo conto ogni tanto giro che lo faccio adesso e guardo se sta registrando infatti la batteria è quasi scarica ma ce la possiamo fare comunque qualcuno mi ha chiesto nei commenti nel box dei commenti che canale è Netflix questo non ve lo so dire però posso dire che mi guardo una serie televisiva tipo Grace Anatomy mi pare correggetemi se mi sbaglio ma mi pare che era Grace Anatomy sì molto bella Grace Anatomy mi piace molto me la guardavo anche quando ero adolescente quindi top mi piace molto e tra poco se non si scarica la batteria ma penso di sì della fotocamera vi faccio un bel prodotto finiti non lo so quanto durerà ma spero poco e nulla ragazzi il video termina qua perché voleva essere solo un video breve non so ancora cosa fare ma penso che mi metterò a registrare altri video e vediamo un po' come va a finire questi altri video volevo registrare quel video non tag video neanche delle pulizie ma bensì video make up non ho ancora idea di che cosa ma vediamo un po' ho un video dalle mie borse ma le borse ne ho pochissime cosa cavolo registro vabbè ho watch my phone vediamo vediamo cosa mi sparavizzola al cervello cosa mi dice il cervello di registrare ok bene ragazzi mettete un like commentate condividete e iscrivetevi per non perdere i prossimi video ciao a presto un bacio e attivate la campanella vi raccomando che è gratuito iscriversi iscrivervi ciao